Facciamo ragazzi ora i giri per gli abbonati, quindi ruota premium, primo giro per Fed No Cup, secondo giro ragazzi sempre per Fed No Cup, vi ricordo che c'è il 100% di vittoria o card o partite, per il momento lui si è vinto due partite insieme. Franci ragazzi mi ha contattato privatamente e ha detto che i giri non li vuole, anche se dà tantissimo supporto al canale, primo giro per Prinzi ragazzi, no non si vince un'altra card, Prinzi no eh, per il momento niente, andiamo con la seconda ruota, secondo giro, ok, giro per Lalla. Attenzione, attenzione, Lalla si porta a casa un card da mille, un regalo da massimo mille WBAC, andiamo con i giri per Sammy, tre giri per lei che ha fatto l'abbonamento, ha rinnovato l'abbonamento ragazzi, quindi tre giri in regalo per lei. Primo giro partita, secondo giro, attenzione, oh Sammy punta sempre alle card da 2008 ragazzi eh, terzo ed ultimo giro per Sammy ragazzi. 3 giri, tre partitelle. Ok, ricapitolando, ci sono Fed No Cup, Prinzi e Sammy che hanno ricevuto le partite e Lalla regalo da mille WBAC.